Ciao Internet! Quando parlo di reputazione alle aziende, ricordo il teorema fondamentale, che è quello che noi chiamiamo teorema della gabbia di vetro. Il teorema della gabbia di vetro dice che non puoi mentire, perché è come se ti trovassi all'interno di una gabbia di vetro. Non ci sono armadi in cui nascondere scheletri, e la verità, prima o poi, viene a galla. In questo periodo storico, pensate a Wikileaks, pensate a Volkswagen, pensate a Bergoglio, pensate a Hacking Team, in questo periodo storico, ancora più velocemente, e in modo vehemente. Quindi, il fatto di proporre contenuti adulterati, il fatto di proporre contenuti falsi, è un qualcosa che bisogna ricordarsi, che in questo preciso millennio, in questo momento storico, non è fattibile. Pensate alla mia meraviglia, infatti, allora, nel vedere che cosa è successo, negli ultimi giorni, all'interno del Vaticano. Se vi siete persi lo scandalo della lettera di Ratzinger, è un, invece, un caso da manuale da studiare per come non impostare strategie di comunicazione che siano rivolte a un pubblico estremamente ampio. Vediamo di riassumere l'oggetto del contendere. In mezzo a tutti, un uomo, Monsignor Viganò. Vediamo di fare un riassunto veloce. Monsignor Viganò, potentissimo prefetto della comunicazione vaticana. Un uomo particolare che, nel corso del suo mandato, ha ripreso le fila di tutta la comunicazione pontificia, andando a chiudere sotto la segreteria per la comunicazione tutti quei vari, di casteri, non di casteri, piccoli e grandi realtà, che normalmente si preoccupavano della propaganda e della comunicazione della Santa Sede. Un uomo potentissimo in una posizione estremamente particolare, dove, nelle possibilità di comunicazione, ha anche l'editoria. Un'editoria che viene utilizzata in modo strumentale, in questo caso, con una particolare collana, undici volumetti, sulla filosofia di Francesco, che per molti rappresentano, semplicemente, uno statement politico. Già, perché, se vi siete persi gli ultimi anni, anche all'interno del Vaticano, all'interno delle fazioni teologiche, vi sono due grandi schieramenti. Uno dei due, che segue ancora il Papa Emerito, il pastore tedesco Ratzinger, con la sua dottrina ad ogni costo, cioè, quindi, non un uomo di mondo, ma un uomo dotto di dottrina, che tendeva a riportare il Vaticano all'interno di una sorta di, non so, purezza dottrinale. Dall'altra parte, Francesco, l'uomo di mondo, l'uomo vicino alle persone, a cui viene spesso e volentieri rinfacciato di non essere un uomo di teologia. Anzi, come i detrattori scrivono spesso, non ha neppure il dottorato in teologia. Per controporre queste due cose, per evitare di controporre queste due cose, dare un'immagine di Francesco, invece, come dotto uomo di dottrina, scusate il gioco di parole, esce questa collana. Undici volumetti, scritti da undici teologi, che supportano la teologia di Francesco. Un'opera di propaganda, in tutti i modi possibili e immaginabili per definirla, a cui, a un certo punto, Viganò chiede a Ratzinger un endorsement, una sponsorizzazione, chiede di scrivere una paginetta densa di dottrina da usare come prefazione. Ratzinger risponde, e vedremo poi con un paio di particolari, risponde dicendo che ha molto piacere nel vedere che effettivamente esca una collana sulla dottrina di Francesco, risponde in maniera estremamente polite, dicendo che la dottrina di Francesco è contro ogni ragione, spesso messa in discussione, che anzi c'è una profonda dottrina da parte di Francesco, quindi tutto va abbastanza bene, ma fa tre cose che sono necessarie da capire all'interno di questa lettera. La prima, attacca uno di questi autori, che si è virulentemente mosso contro lui e il suo predecessore, da un punto di vista di dottrina, dicendo no, non sono d'accordo nel farlo, anche perché sapete che si è molto scagliato, non tanto contro di me, ma quanto contro la la santità del santo padre e la visione dall'alto, quindi una sorta di piccolo ribelle, quindi non me la sento. due, non scrivo prefazioni a ce l'ho come come abitudine, ha volumi che non ho letto e i miei impegni personali e altri impegni progressi non mi consentono di leggere undici volumi per fare la presentazione, mi manda questa lettera come riservata e personale. E qui l'errore di Viganò, l'enorme enorme di Viganò, l'errore sterminato di Viganò, ne fa due, ma uno più grande dell'altro. Il primo, Viganò, nella presentazione di questo libro, questa è una lettera di febbraio, nella presentazione del dodici marzo di questa collana usa questa lettera, ne legge ampi stralci, a supporto dell'idea papale. Una lettera riservata e personale. due, beh, censura una parte della lettera, in particolare l'ultima, verso la fine, in cui racconta del fatto di non poter fare endorsement endorsement alla collana, perché c'è all'interno un teologo che, tanto virulentemente, si era scagliato contro il suo pontificato e contro la sua autorità ecclesiastica. Questa cosa ha uno tsunami di ripercussioni enormi, uno tsunami di ripercussioni talmente devastante da costringere Monsignor Viganò alle dimissioni. Perché tutto questo? Beh, perché altre versioni della lettera girano e quindi, ancora una volta, si accende il dibattito. Perché? Perché pare che la lettera sia stata adulterata apposta, per dare una visione differente da quello che voleva dare il Papa Emerito. E quindi le due fazioni, le fazioni pro Papa Emerito e contro Francesco, e la fazione pro Francesco e contro Papa Emerito, raccontano, in tutto questo, tutta una serie di storytelling differenti. Dall ah, oddio, il Papa Emerito aveva giurato silenzio e invece adesso non è silenzioso e attacca Papa Francesco, a Papa Francesco, furente, perché non è riuscita ad ottenere l'endorsement di Ratzinger e quindi decide lui spontaneamente e fa dire a Viganò di leggere questa lettera per potersi riposizionare. Un gioco di poteri tra il, ecco, il Papa Emerito mi dà lo stesso una sorta di endorsement sulla mia vena teologica e dall'altra parte, ecco, Papa Francesco usa, abusa dei suoi poteri per ottenere ed estorcere un nuovo endorsement da Ratzinger. Che sia vera l'una o l'altra delle fazioni non è cosa che ci riguarda e soprattutto mi interessa, come sapete, ben poco. Io sono cattolico quanto 5 stelle. Dall'altra parte, però, da capire un errore strategico e incredibile, quello di utilizzare, a supporto della propria tesi, del materiale riservato e soprattutto adulterato, pensando che nessuno si accorgerà di queste due cose. Perché ancora una volta l'errore di comunicazione qui non è legato principalmente a cosa ho letto o se era opportuno o meno utilizzare quel tipo di comunicazione. È dato dal fatto del pensare che le persone dall'altra parte siano una manica di imbecilli e non riusciranno in nessun modo a capire che io ho tentato di truffarli andando a presentare un risultato redatto, parziale e non certo quello che era l'originale. Una strategia folle per il Vaticano, ma folle per qualunque altra azienda, folle per qualunque altro sistema di comunicazione che, all'alba del ventunesimo secolo, deve principalmente fondarsi su un unico principio fondamentale, quello della trasparenza, quello dell'accountability. Il fatto che, come sappiamo, siamo in una pubblica piazza dove chiunque può renderci conto di quello che diciamo e di quello che facciamo e dobbiamo prenderne coscienza. E voi? Cosa ne pensate? Raccontatemelo qui sotto e se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia cinque giorni alla settimana parlandovi di comunicazione e di come la rete ci cambia. Buon venerdì e buon fine settimana e, come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e oggi più che mai estote parati.